Non vedevo appunto l'Aquila da diversi anni, quindi rivedere questa rinascita che sempre di più sarà sempre meglio, è un'emozione e quindi è bello poi vedo questa partecipazione, questa voglia di anche tornare al teatro che dopo la pandemia ci ha colpito, insomma diciamo che ecco io questa serata la considero un po' una rinascita sotto tutti i punti di vista.